Nove anni fa, nel 2010, la presentazione in pompa magna nello stabilimento nel Padovano in cui erano state assemblate delle cerniere del Mose, quei delicati meccanismi che dovrebbero garantire la corretta alzata delle paratoie per proteggere la città di Venezia dalle acque alte eccezionali. Davanti all'allora ministro Alterio Matteoli e al governatore veneto Giancarlo Galan venivano beatificate perché sarebbero dovute durare 100 anni. In realtà, dopo nemmeno 10 anni, le cerniere sono da sostituire perché buona parte di quelle che sono state poi ancorate alle bocche di Porto di Tirporti, Lido, Malamoco e Chioggia, presentano ampie tracce di ossidazione. 250 milioni di euro erano costate allora. Per ora incombe lo spettro di altri 34 milioni più IVA per una nuova gara d'appalto che prevede al loro rifiacimento con un sistema che possa garantire in modo certo la loro durata all'esposizione della corrosione delle acque. Le cerniere in totale sono 150 56. Ne occorrono infatti due per ognuna delle 78 paratoie dislocate nei cassoni, in calcestruzzo alle varie bocche di Porto Lagunari. Un deterioramento così repentino non era stato previsto, anche se prevedibili potevano essere in qualche modo eventi come mareggiate più sostenute, delle quali il Mose dovrebbe proprio proteggere, che in un caso particolare quattro anni fa aveva visto una grande quantità di acqua di mare penetrare nelle strutture che contengono le cerniere. Tre sono al momento le cordate che hanno annunciato la partecipazione alla gara d'appalto. I loro progetti saranno valutati da una commissione di esperti che darà poi l'ok al vincitore e che avrà a disposizione 10 anni per rimettere le cose a posto e prevedere soprattutto sistemi che non risentono così tanto della corrosione.